Bene, poteva capitare, ed è capitato, che la Juventus non facesse una buona prestazione in Champions e che potesse anche perdere, o quando competi in questa competizione ci sta assolutamente andare a perdere, per carità, bravo lo Stoccard, assolutamente, anche perché hanno fatto un'ottima partita a livello atletico, sono stati incredibili, non so se siano dopati tutti quanti, però correvano come dei dannati. Primo tempo, infatti, se uno guarda la partita, le va a riguardare, spesso volentieri, quando noi ripartivamo dall'alto, loro arrivavano in 4 e in 5 a pressare alto, altissimo, perché venivano a prenderci in area. Noi abbiamo fatto fatica a gestire il pallone, questo è vero, e quindi gli abbiamo dato anche corda del fatto che se correvano riuscivano ad ottenere qualche risultato o comunque metterci in difficoltà. Però, vedevi, erano in superiorità numerica quando andavano a pressare. Nel momento in cui superavi questa linea di pressing e andavi in attacco, erano in superiorità numerica anche in difesa, allora una domanda te la poni, o sono in 12 o in 13 a giocare, oppure stanno correndo come i dannati. E la risposta era la seconda, ovviamente. E quindi ci hanno fatto veramente male in questo senso, perché comunque ci hanno pressato e soprattutto andavano a difendere e a raddoppiare sempre. Poi, che la gestione in fase offensiva nel primo tempo, in modo particolare, sia stata abbastanza allucinante, perché comunque tantissimo possesso palla, l'abbiamo fatto ok, ma più in difesa che in attacco, perché in attacco si puntava molto su Hildit e su Consensao che andavano a cercare l'uno contro uno, fra l'altro che spesso e volentieri hanno perso. E quindi mi domando, ma scusa, se non ti viene l'uno contro uno, a un certo punto devi trovare un'altra soluzione, non è che puoi insistere lì, sempre lì, sempre lì. A un certo punto cambia, no? Perché nel primo tempo le fasce, gli esterni, in lo specifico, hanno puntato tantissimo l'uomo, senza grandi risultati, perché praticamente non hanno mai fatto un'azione interessante. Nel secondo tempo un po' è andata meglio, nel senso che sì, abbiamo subito il gol che però era viziato da un tocco di mano, quindi assolutamente giusto annullarlo. Ci siamo presi un rigore, ci siamo presi pure un gol. Però loro hanno rallentato, è rallentato parecchio. E infatti a un certo punto loro non ci aspettavano più, non venivano più a pressarci, ma ci aspettavano. E quando ci aspettavano diventava più semplice andare ad attaccare. Poi la precisione dei passaggi è stata abbastanza scandalosa, nel mio modo di vedere, perché comunque non riuscivamo neanche a fare un cross decente, e quello fa tanto. E forse, credo che su una partita di questo genere, Tiago Motta abbia sbagliato a far entrare Savona e non cambiasso nel primo tempo. E l'ha fatto entrare solo nel secondo tempo, perché Savona è andato in difficoltà, perché non era probabilmente preparato a ritmi di questo genere, non era mentalmente pronto per una finale, se una finale magari, una partita di Champions, e quindi è andato in difficoltà. Cambiasso, quando è entrato e ha sostituito Savona, il ritmo è cambiato, la Juventus ha giocato meglio, e siamo diventati più pericolosi. Perché comunque Cambiasso è un ottimo giocatore, un giocatore intelligente, che non ha bisogno solo del fisico, ma ci mette anche il cervello quando gioca, e questo può fare la differenza. Dall'altra parte, nel secondo tempo siamo stati più pericolosi, siamo riusciti anche ad entrare in area, purtroppo mancavano i ritmi giusti nei passaggi, spesso e volentieri era troppo lungo, troppo alto, o troppo indietro, quindi spesso e volentieri sbagliavamo, invece loro più precisi, e quindi hanno ottenuto qualcosa in più. Poi, per carità, rigore netto, errore clamoroso di Danilo, mi vorrebbe da dire quanto ci mancherà a Bremer, purtroppo, perché Bremer è fuori tutta la stagione, ma Bremer in questa partita probabilmente avrebbe fatto veramente la differenza. Danilo, lo sapevamo, è in difficoltà con il gioco di Motta, perché è più un attendista che un giocatore di proposizione, quindi quando deve gestire la palla, infatti abbiamo visto anche stasera, va in difficoltà, e quindi oggi è andato in difficoltà, poi si è fatta anche Speller, tanto per mettere la ciliegina sulla torta, insomma, prestazione abbastanza in colore di Danilo, purtroppo, e rigore, anche per fortuna Perina parata, con una grandissima parata, fra l'altro Perina uno dei migliori dell'Iventus, poi succede che a un certo punto con l'uomo in meno, si è imparato il rigore, quindi la carica ce l'hai, però la realtà dei fatti è che loro correvano più forte, hanno avuto quegli ultimi dieci minuti, grazie anche all'uomo in più, e hanno attaccato in maniera perfetta, poi il gol è meraviglioso, non devo dire, hanno fatto un 1-2 velocissimo, noi siamo stati fermi sulle gambe e ci hanno fatto gol, e non si poteva veramente fare nulla per quanto riguarda il portiere, si è stati un po' distratti, però ci può stare dopo 90 minuti che hai subito tanto, perdono un po' la concentrazione al 93esimo, tutto sommato ci sta, purtroppo loro hanno giocato meglio di noi, se lo sono meritati, complimenti a loro, noi dobbiamo iniziare a pensare, fratto dobbiamo pensare anche all'Inter, perché si gioca domenica Inter-Juve, quindi è un'altra partitona, però insomma, tutto sommato, spero che questo faccia esperienza, sia a Thiago, che probabilmente non si aspettava una partita di questo genere, e anche per i giocatori, quelli più giovani, che hanno bisogno di crescere a livello anche mentale, e non solo atletico. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, come sempre, vi aspetto i vostri commenti, sulla partita, che insomma a me è un po' deluso, la Juventus, non certamente la bellezza della partita, che è stata anche una partita intensa. Vi saluto, e buona serata, ciao a tutti.